Interrotto dall'emergenza Covid, l'iter verso la riorganizzazione della rete ospedaliera provinciale vivrà una tappa importante lunedì prossimo a Milano, dove si riunisce il tavolo tecnico comprendente una delegazione della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia guidata dal Vice Direttore Vicario Marco Salmo Iraghi e i rappresentanti tecnici dei comuni che hanno presentato osservazioni al piano del Politecnico di Milano o piani alternativi allo stesso. La finalità dell'incontro è quella di completare il percorso di evoluzione della rete ospedaliera del territorio. Più di un anno fa Regione e ATS della Montagna infatti avevano incaricato il Politecnico di Milano di redigere uno studio specifico sulla sanità di montagna, poi presentato alle istituzioni del territorio nel corso di un'assemblea presieduta dagli assessori Gallera e Sertori. Lunedì verranno discusse e approfondite, riferisce la Regione, le proposte emendative, migliorative o integrative redatte nei loro documenti dai sindaci. Sia quello unitario sottoscritto da 71 primi cittadini su 77, sia quello alternativo elaborato dagli amministratori dell'Alta Valle insieme al Comitato a difesa della sanità di montagna.